Sono Leo Frediani, della ditta Fratelli Frediani, siamo rappresentanti di macchinari, impianti, prodotti chimici per l'industria cartaria. Conosciamo, lavorando nello stesso settore, l'Ecol Studio da svariati anni e utilizziamo il loro know-how, le loro conoscenze, il loro supporto nell'ambito della fornitura dei nostri macchinari, così come quando i nostri clienti ci chiedono nel settore specifico di Ecol Studio qualcuno di ben referenziato, siamo contenti di consigliare la loro azienda. Il motivo è che la loro grande esperienza, le persone che lavorano per Ecol Studio, danno ai nostri clienti e ai nostri rappresentati quella grande professionalità che serve, soprattutto in caso di rapporti con le istituzioni, rapporti con chi deve chiedere permessi e in questo caso i risultati sono sempre migliori rispetto ad altri concorrenti. Questo per noi è un di più, quindi collaboriamo da tanti anni in questo settore.